vai se sono lontani me lo dite che ci avviciniamo eh Tommy apri bene e vado dai che va bene dai recupera recupera il pallone dai va bene era buona eh spinta ne hai data eh cerchiamo di fare un buon ritmo di andare un po' veloci che fa freddo eh quindi rialzata veloce voglio vedere una bella rialzata là al pallone Tommy quella palla non deve rimbalzare quindi piega guarda me piega la gamba bene la schiena giù e rilancio bowling quella palla non si deve alzare eh ok perché sennò il compagno lo mette in difficoltà eh e di che sta rimbalzando ancora più giù con la schiena e non buttare dietro le braccia quando fai il tuffo dai due minuti a destra ridagliala ridagliala Leo due minuti a destra piega il ginocchio il ginocchio destro va bene piegati bene abbassa la schiena ok vedi che già è partita meno apri e spingi senza buttare indietro le braccia e senza saltellare eh apro e spingo è una bella rialzata veloce eh dai Tommy dai Tommy veloce 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 anche mancano 30 secondi eh facciamoli forte veloci veloci forte veloci forte andiamo veloci forte andiamo Tommy muovi prima la gamba sinistra devi solo aprire la destra lì e concentrati eh capito se sei troppo lontano stai avanti ai cinesini ok però fammi il gesto nella maniera corretta eh oh buono ok e su rialzata veloce eh dai andiamo ha iniziato Leo giusto dai ancora uno a testa quindi finiva ancora uno Tommy cioè due Tommy mio e uno Leo vai forza 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 sì l'ultimo a te ancora qua hai moso prima la sinistra eh ok